buon pomeriggio cari amiche cari amici buon pomeriggio vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video la c'è glamorous emma la cavalla che deve superare gli ostacoli dobbiamo superare degli ostacoli importanti parleremo di mercato proiettato anche un po più avanti ma parliamo di un film care amiche cari amici ancora di cinema ma capirete perché parlo e andrete e sarete d'accordo con me non andrete a vederlo perché è un film di almeno di metà anni 70 credo addirittura e parliamo vado vedere vado andate a vedere quel film però attenzione è angoscioso drammatico terribile un film tratto da un libro del mi sembra di metà anni 30 e si svolge nei tempi della grande depressione americana dopo il 1929 quando c'era una grande crisi e allora avevano organizzato per coppie una gara di ballo il vincitore 1500 dollari che allora era una un sospiro di sollievo ampio e profondo per tantissimi per tantissimi americani ma era una gara da di ballo tremenda logorante si cominciavano e durava c'erano tante gare tante tante sfide mi sembra ci fossero 120 coppie e lì si continuava a correre intorno a un palco che era in mezzo c'era un presentatore un conduttore per meglio dire e poi ogni tanto qualcuno cadeva per terra per sfinimento e succedeva di tutto in quella gara di ballo gente che moriva di infarto gente che si infortunava il titolo lo ricordate molti lo ricordano così si uccidono anche i cavalli non faranno certo la fine così drammatica e dolorosa i giocatori di calcio ma scusate visto l'infortunio di gavi ieri furente il management del barcellona perché era una gara abbastanza inutile quella che ha visto la spagna battere mi sembra la georgia ma che viene dopo l'infortunio di neymar dopo l'infortunio di camavinga dopo l'infortunio di vinicius dopo l'infortunio di zai emery dopo l'infortunio di leao dopo la ricaduta mi sembra di aver letto chiedo scusa di arnautovic spero di sbagliarmi per l'inter ma ho letto qualcosa del genere quindi dopo gli infortuni ogni tanto che sono sono capitati nel passato al 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 grande usiamo gli aggettivi di bala signori così si uccidono anche i cavalli il milan pensa di aver trovato una soluzione drammatica anche l'uscita per esempio di pulisic recentemente con il pari drammatica il milan pensa di aver trovato la soluzione una soluzione non facile vi ho detto per un allenatore mettete voi voi nei panni di un allenatore che deve recuperare punti in campionato che deve passare il turno in champions league che sa di avere in mano quando ci sono tutti i titolari una squadra molto forte però non lo insegnano a coverciano nel corso allenatori però diventa una cosa fondamentale e si chiama turno o meglio in inglese turnover facciamo turnover per farla molto semplice anche se i puristi della lingua inglese anche se chi ha se chi diciamo chi ha seguito corsi d'inglese o chi ha letto libri d'inglese o visto film d'inglese soffriranno turnover e capiamo e il milan ma per il milan e per gli altri la soluzione è quella non possono sempre giocare gli stessi giocatori c'è l'immagine di leao ci arriviamo non so quando tornerà vi ho già detto che da quello che mi risulta non contro il borussia dormund mi auguro di sbagliare che ci sia col borussia dormund personalmente per quello che conto ma molti di voi razionali forse sono d'accordo sarebbe un finino un rischio non siamo noi che decidiamo c'è uno staff tecnico e uno staff medico mentre gli altri da domani dovrebbero tutti ritornare a disposizione di pioli anche lo stesso benasser anche benasser mi ha fatto impazzire una cosa ieri benasser e leao vanno a trovare jannik sinner e prima none diokovic allora diokovic saluta ovviamente perché forse lo conosce meglio ed è anche un giocatore che forse ha già avuto dei rapporti magari in altre occasioni con diokovic va a salutare con particolare enfasi con particolare trasporto il buon leao e saluta dando la mano in maniera educata benasser che si vede che è un giocatore che magari non ha avuto lui contatti nel passato che conosce meno allora che cosa viene fuori è la perversione mentale ormai c'è la perversione mentale che cosa viene fuori a bello diokovic è andato a salutare leao no la perversione mentale e ma ha ignorato benasser e si parla solo perché ormai c'è una perversione mentale di vedere le cose ormai negative le positive non interessano più a nessuno non interessano più a nessuno allora si va a vedere ma non ha salutato bene benasser poi ci sono le battute ma non lo conosceva pensava che fosse un accompagnatore eccetera eccetera ormai è così ormai è così non dobbiamo lottare come se fossimo tutti dei don chisciotte contro i mulini a vento come se fossimo dei personaggi letterari della letteratura spagnola no e funziona così e prendiamo atto di questa perversione mentale lui che dice è milanista lo abbraccia vengo a san siro non interessa nessuno magari finito il video saluterà con particolare calore benasser ma dato che non c'è nel video lo cancelliamo e non è un dato di fatto me l'ha già chiesto in due l'ho già letto in mille ha mai visto che adesso magari stasera ne parleremo ancora perché non ha salutato benasser è il motivo fondamentale a livello calcistico rosso nero di questo lunedì è incredibile è incredibile passiamo oltre dicevo vediamo se le ha o riuscirà a recuperare per il match contro il contro il borussia dormunt con la fiorentina direi che escluso andiamo verso i tre attaccanti e poi ci sarà turnove rientrerà girù bisognerà vedere se verrà confermato caffor che dovrebbe essere il titolare io personalmente ma è un mio pensiero se non vedessi in maniera splendida quindi radicalmente il doppio dalla scarsa percentuale di di aiuto alla squadra deve migliorare ma del triplo del quadruplo e parliamo di jovic quindi vedo che la formazione sta andando verso questa direzione vediamo a centrocampo ho già detto che per il nostro idolo per i nostri l'idolo nostro di noi adlisti sarà un po difficile che nel turnover rientri anche ad lì e questo mi dispiace spero di essere smentito da stefano pioli che nel turnover rientri anche il buon mozart ma vi ho promesso di parlare di mercato c'è una linea e il titolo riguarda due giocatori del 2002 per la difesa centrale il difensore la il diciamo il ruolo il reparto difensivo centrale c'è un po da sistemare tutto bisogna capire pellegrino quando torna il valore di pellegrino che si può tranquillamente visto che un nazionale argentino dare in prestito la prossima stagione come si è fatto anche con gabbia poi bisognerà un attimo capire la situazione riguardo a chi è ma bisogna certamente rinforzare e ci sono due giocatori c'è una via preferenziale con degli scambi possibili di giocatori ci sono dei giocatori che possono interessare al genoa e ci sono certamente due giocatori che interessano al milan e parliamo di radu dragusin 2002 pensavo è giovanissimo mi sembra invece dalla faccia dal modo di muoversi un giocatore molto esperto e alessandro mercandalli che nato nell'atalanta ha giocato anche nel nel giana è andato poi comprato dal genoa e adesso in prestito alla reggiana dove sta facendo molto molto bene 1 90 pensate avere in mezzo oltre che tomori che diventerà la base avere mercandalli e avere tomori giocatore mercandalli che è giocato anche sulla fascia sinistra perché molto veloce molto veloce ecco che il milan lì potrebbe rivoluzionare con questo con questa via preferenziale con il genoa dove bisognerà dare del denaro certamente ma il milan ha tanti giocatori interessanti anche in giro per l'italia che possono essere interessi e importanti per il genoa oltre che essere giocatori della formazione primavera quindi questa villa questa via milan genoa potrebbe essere un corridoio che può portare giocatori interessanti giovani da da diciamo da far crescere da far diventare giocatori di grande importanza e prospetto parlo di giocatori del milan che vanno al genoa e giocatori del genoa già fatti o abbastanza fatti quindi attenzione 2 2002 per il milan per la difesa del milan via milan genoa con via milano milano genoa continuo a mettere il countdown per quello che riguarda slatan ibrahimovic vedremo vedremo se sarà la settimana giusta o bisognerà aspettare qualcuno ipotizza la partita quando ci sarà gerry cardinale magari il giorno dopo della partita contro il borussia dormun perché prima sarebbe un po scuotere l'ambiente che deve stare concentrato a livello mediatico e a livello di di attenzione sulla partita ovviamente del del che vedrà il milan partita di champions league contro appunto la squadra tedesca se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di caro plena